Che partito? Ok, è successa una cosa strana Ok Ciao Shand, ciao Polite Grazie per i no, 24 mesi Che sono due anni, quindi lo so dei siti due confermato Oseremmo dire Ciao Nicola, ciao Liam Ciao Mr. Graffio Dappelganger Polite, Polite, e ciao Nate Ok, allora Mentre faccio fuori questa cotoletta Per oggi, alle 21 È previsto un podcast, come vedete Alla mia sinistra, questi podcast Che Xbox rilascia frequentemente Tra l'altro anche abbastanza belli Da seguire In cui Parleranno Delle prossime manovre Negli ultimi mesi È stato un susseguirsi Di Rumor, e quando si parla di rumor Si parla sempre di non confermato Anche perché sono usciti così tanti Che si annullavano a vicenda Quindi Comunque rumor Che parlavano Della Dell'arrivo Di diverse esclusive Microsoft Quindi ormai non esiste più Il concetto di esclusiva Xbox In quanto i giochi Xbox Arrivavano anche su PC Ma non solo su Windows Microsoft Windows Ma anche Su Steam Quindi il PC Non era legato al solo Microsoft Windows Ma comunque Uscivano anche su Steam Perché Se lo facevano uscire solo su Microsoft Windows Non lo comprava nessuno Quindi almeno su Steam C'era più mercato Scusate Ciao Zephyrus Tu hai finito prima di me Alla fine Tra questi Abbiamo avuto Nomi del tipo di I-Fi Rush Pentiment Sea of Tears E c'è stato anche Uno Starfield Che poi è stato Come si dice È tornato indietro Ha fatto il giro al contrario Questa cosa di Starfield Ciao Gabbro La cosa Che dobbiamo comprendere Da quello che verrà detto oggi È Come Microsoft Vorrà muoversi Dal punto di vista Del rilascio Dei suoi titoli Su piattaforme concorrenti Nel caso specifico PlayStation Perché per quanto Si può mettere anche Switch Nel mezzo Ciao ragazzi Sono usciti Dei giochi Switch Dei giochi Microsoft Su Switch Uno In realtà Coso Ori Ciao Zephyrus Metti L'orgoglio Spacca il cuore a metà Diceva Solo questo Non ho due USB Tu potresti Magari arrivasse Office Su PlayStation Avrebbe bisogno Di portate del lavoro Dove essere tutto Devo solamente togliere Lo sfondo Ma in realtà Stai perfetto Stranamente Stranamente lo togliamo Va bene Hai chiuso la porta Perché tu hai Il vizio di vivere al Colosseo Io ho la coda come Goku Tu hai il vizio di vivere al Colosseo Sembra abbinata allo spot Che vivere al Colosseo? Perché non ci sono le porte al Colosseo Ok Jigglypuff Non ha più acco Quindi Tra l'altro tutto questo A sei giorni dall'uscita di Final Fantasy XIV Su Xbox Ora Xbox come console Continuerà ad esistere Qua ovviamente Entriamo sul secondo me Però diciamo Secondo me Xbox come console Continuerà ad esistere Alcuni titoli Bisogna vedere Quanti Quali E con che spessore E con che cadenza Arriveranno Anche Su altre piattaforme Bisogna vedere Quali piattaforme Ossia solo Switch Switch più Playstation E quanto potenti Sono questi titoli Quanto tempo passa Nel caso di Microsoft Dice Microsoft è per lui Per lei un Un win-win Nel caso che Siccome sanno Che la console Non può vendere Quanto vorrebbe Ossia quanto Una Playstation 5 Cercano di Arracap Arracap Accarappare Accarappare Cercano di prendersi Il più mercato possibile Vorresti non spingermi Scusa Altrove Ma che cosa hai trovato Qua la fine Eh Gillipa Ah ma è Ermione Oh che carina No no è Ermione Indy Questo Bisogna vedere Anche quanto a ritroso Possono andare Perché Una manovra Simile Ovviamente Di una caratura Totalmente diversa È quella che sta Attuando Playstation Verso il PC Ossia che Diversi titoli Esclusive Playstation Blindate Alla sola Con son Sony Stanno arrivando Pian piano Su PC Tra poco Uscirà Horizon Forbidden West Che è stato Titolo di punta Di 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 Playstation Uscirà probabilmente Anche God of War Ragnarok Uscirà Tutto Solo Bloodborne Usce tutto Su PC Tranne Bloodborne Ovviamente L'ampiezza Della manovra È diversa Per Playstation Il PC Il PC È un mercato Non tanto Concorrente Quanto Equivalente Un mercato A cui affacciarsi E non ha bisogno Di rubare Mercato Al PC Mentre ha bisogno Di rubare Mercato A Xbox Nel caso Specifico Indie Vediamo Oggi Cosa ci dirà Xbox Il punto è Che se Cioè Quello che mi vede a pensare È che se Se determinati titoli Arrivano Su Cioè Se i titoli Xbox Arriveranno Su Playstation 5 Quanti ne arriveranno Come si potrebbe Protrarre Un concetto Di Ma un third party Esclusivo Xbox Come se lo giostano In questo caso Tipo Palworld Che poi Esclusiva Sempre Per modo di dire Perché ci stavano Lavorando Ancora questa cosa Non si sa Vediamo Vediamo Il giglio Che canta napoletano Che c'era su Instagram Non lo so Non Non conosco Questo meme È quello che ce l'assarremo Sta montando Ermione È una cosa Che vorrei fare io Ma lo sta facendo lei Cioè Lei sta Componendo Ermione Io Vabbè Ciao Mr. G E a proposito Di montare Ora Siamo arrivati Però che carina Si vede Guardate che carina Non c'è il green screen Cioè non c'è Che carina Dai Però sto buco qua Che mi serve Per metterci la materia grigia Ma che cosa ne so Proviamo un F5 Preventivo Per quanto penso che Prima delle 21 Non vedremo niente Scusate se Faccio un attimo Zapping Twitter me lo sposto E me lo accorcio E scusate se Per un momento Siamo senza Musica Però Cioè Per metterla E poi non E poi ritoglierla Non ne verrebbe la pena C'è Larry Rib Che non lavora più Per Microsoft Però Anche lui stesso Siete tutto Everyone up to today Siete pronti per oggi Larry Rib Non lavora più Per Microsoft Però Ovviamente È stato storico È lavorato 30 anni 20 anni 15 anni Non sono sempre a calare 3 mesi Non ha lavorato Ha lavorato persone in realtà Enzo Hon Quindi vediamo Personalmente Non vedo il motivo Di Per chi ovviamente È legato alla console Microsoft Di lasciare Di abbandonare L'ecosistema Microsoft Nel caso Il gioco esca X tempo dopo È ovvio che Così PlayStation Dal punto di vista Di titoli HD Diverrebbe La unica Piattaforma Sul mercato E C'è tutto Quello che esce su Xbox Arriverebbe anche lì Quindi se uno vuole tutto Si prende la console E fa tutto Nel generale Tra l'altro Siamo nel mese Siamo a metà febbraio E ancora Non c'è notizia Di un Direct Nintendo Secondo me È perché Oggi Cioè Se Doveva annunciare roba Nintendo Senza Come si dice Il via di oggi Non potremmo dire Guardate Hi-Fi Rush Esce su Switch Il 28 febbraio Dell'anno prossimo Oggi devono sdoganare Questa cosa Infatti domani Nintendo Alle 15 Non c'è il Direct Per le 16 Per le 15 e 10 C'è anche da dire Che d'ora in poi I contenuti Quelli che sono i Direct Quelli che sono i State of Play Possono essere anche teatro In realtà Però potrebbe essere teatro Di annunci Xbox Caricare Allora qua Sfunta il Direct Che plot twist Cioè potrebbe essere Tipo Nel prossimo State of Play Invece di esserci 40 minuti di Eldivers Ci sono 48 dialoghi Cioè Pensate Secondo me Non ci saranno giochi Come fai in un podcast Ad annunciare giochi Allora Almeno diranno Quali sono I più importanti Che arrivano Ah sì Hi-Fi Rush Arriva su Switch Faccio l'esempio Almeno quello Lo devono dire Perché se no Si dicono Ah ci siamo aggrappati Al multipiattaforma Significa Non significa niente Che potrebbe arrivare Solo Killer Instinct Bellissimo Per carità Mastica Cioè anche dire Che non portando Il Game Pass Su altre piattaforme In realtà Chi ha la console Xbox O chi ha un PC O chi ha un telefono Cioè chi non ha Playstation Gli conviene sempre Avere la console Cioè Un eventuale Titolo E Facciamo esempio Di quello più potente Attualmente Starfield Su Playstation Dovrei comprare 80€ Su Xbox Mi costa 17€ al mese Se non di meno Quindi Vediamo Dipende molto Da cosa ci diranno Oggi Per cominciare A comprendere Come muoverci Come vediamo I podcast Non so quanto Vedete voi Durano circa 50 minuti Io mi immagino Tipo Coso Wario Comunque Quelli che sono Addenti Alle notizie Che lo vedono 6x Riuscendo a Capire Tutto Noi lo vedremo A 1,25 No vabbè Sono sottorito Lì tanto Non mi serve Che mi dica L'accento americano Di Phil Che poi ci sono Phil Spencer 1,25 No dai Dipende E se uno Può spoiler Nei commenti Eh vabbè Lo banniamo E quella persona Già io so chi sarà Afranix C'è Afranix Se non ce lo banniamo A prescindere Su qualcuno La colpa deve cadere Cosa stavi Prima cosa stavi Dicendo Niente Il podcast 1,25 Ah ci saranno Phil Spencer Matt Booty Booty che non so se si può dire Su Twitch Quindi scusatemi In caso E Sarah Bond Non so se si può dire Bond su Twitch Quindi in caso Scusatemi Nel altro Sarah Bond Ha un bel Matt Booty Senza Saper leggere Nerscrivere Soprattutto Nerscrivere Tre Tra le personalità Più importanti Di casa Xbox Tra l'altro Di recente Se ne è andato Ibarra Che è quella Che si mette Quando vuoi mettere Uno spazio Ibarra spazzetrice Che era il capo Ah Iphanna Certo Ah Maliere Ma se ne è andata Il capo Di Blizzard Da tantissimo tempo Kotick L'hanno cacciato Però Ibarra Tanto se è andato Scrivendo due parole Tipo Ah me ne è andato Stronze Non proprio così Però era Il mood Che voleva comunicare Allora in 2.0 Arriverà qualcuno Che ci dirà Avete sentito Del podcast L'acquisizione Di Nintendo La parte di Microsoft Il primo gioco Sarà God of War 3 E tra l'altro Ricordiamo che Quest'anno È confermato Quest'anno Commercia Si finanzia Come fiscale È confermato Da Sony Che non usciranno Sequel DP Consolidate Quindi fino a Marzo 2025 Non ci saranno Sequel Si spera che Esca la nuova IP Per dire Però Dubito L'unico che può uscire In mezzo è Wolverine Force Party però ha detto No Force Party Sì sì Ovvio Cioè Major Sequel IP Non usciranno L'unica Speranza è che esca Wolverine Ma Me ne vedo Grandissimo Quindi Quando Dica Della sua Spar 3 Annunciato da Drackman In una conferenza Mentre era ubriaco Non esce comunque Quest'anno Off scale Sì ma Perché la gente pensava Che uscisse quest'anno La gente pensa Che dal momento in cui Una persona dice Qualcosa in un bar Il gioco È in sviluppo Da dieci anni prima Africa 2 È una cosa di Raiden Perché Lo ricordo ancora Nella diretta Del gameplay Di Horizon No Prima ancora Quando annunciavano PS5 Che mostravano Horizon Forbidden West Per la prima volta Mamma che serata Fantastica Bei ricordi Un minuto e trenta Un altro check Che se Microsoft Lo droppa prima Schifo non mi farebbe No no Ma avranno tipo Il coso che lo metti In automatico All'aventuro E poi che ora è ora In Giappone In America Lì Cioè Attualmente Dove è Phil Spencer New York Phil Spencer sta dormendo O è davanti la tv È Redmond Le tre Ah Quindi le tre È a Redmond Alexa che ora è a Redmond Redmond In questo momento a Bergamo Sono le 21 Lo sapevo Cioè Posso dire che Ora scrivi Phil Spencer A Redmond non esiste Ma sarà una città Non un fuso orario Signore pietanza Phil Spencer sta mangiando Con i rocchi totoki Che si mette a ridere Mentre lì pronuncia il nome Ah ah I rocchi totoki Vai 20 secondi Qualcuno ha Pumitato l'anima E vomito anche l'anima Ma sentite Meglio meglio Poi sentiamo il registrato A questo punto della diretta 14 Circa Alla 14 E 40 circa Circa Dai 10 secondi Dai 10 Ti prego Muoviti 21 Il counter Degli affollo 21 Vediamo anche su Twitter Se qualcuno droppa Qualcosa in diretta È caricato Su canale PlayStation Ever Crisis Perfetto C'è la manutenzione Vai su canale PlayStation Guarda su quello Nintendo Eccolo qua 22 minuti Lo vediamo quindi Senza pause Cioè Così Ci sono anche Questi Aspetta un attimo Aspettiamo un attimo Lo mettiamo così Ok Ci siamo Stoppiamo Lo guardiamo tutto di fila Tutto di fila Ok Lo commentiamo dopo Ditemi l'audio Che non sentite Ok Ora lo sentite Ok Acquire giornamenti di Xbox Vediamo anche Non solo inglese No no Solo inglese Ok Parliamo di tutto Praticamente Questo show Sarebbe dovuto essere Quindi sono in ritardo Quindi Activision Blizzard La prima cosa Poi le esclusive E poi l'hardware Abbiamo delle news Sì Hanno visto i leak In parole povere Ok Ciao Tisikero Ok Quattro giochi su altre console Quattro Solo quattro Solo quattro Nessun cambio Sulla strategia Solo quattro giorni Solo quattro giorni Quattro giorni Ma deve dirtelo Non lo dirà Non dirai il numero di giochi Ma almeno uno lo diranno Aferash Ventiment Sea of Teams Ok Non vuole togliere nulla A me lo diranno Con testo Magari Già lo avranno detto Su Twitter Magari Sì Quando usciranno Avrà come il tuo senso Ok Starfield o Indiana Jones Non sono Non sono Non sono Starfield o Indiana Jones Potrebbe essere C'è anche Blade Nel mezzo Perché Blade Era in dubbio Lei ha detto Tutti i giochi Guarda cazzo Non c'erano Che anche ti hai fai a rush Che è più probabile Che poi hai detto Altre piattaforme Non mi hai detto War Infatti Perché ho Minecraft Ho un'esercito fondamentale Che per i prossimi 5 o 10 anni Goli esclusivi Goli esclusivi A un pezzo di hardware Sanno una parte più piccola Della industria E questo non è un grande Insight Perché se guarda Nel ultimo 10 anni E cosa sono i più grandi Goli eserciti Ad oggi È un posto natural Quale sia Un console In PC Multiple console Che se agli altri due parla E penso dopo You see big games Landing on multiple platforms And we want to be A great platform For creators That are trying to realize That potential È comunque È comunque business Quindi Sì sì esatto Sono gioie un piano Più di un anno Ok F-I-Rush F-I-Rush Già ce l'ha un anno Sentimenti Guardi come ricordo Come sono usciti Quindi Blade Non può essere Ancora dove uscire C'è qualcosa Appunto nell'equazione Che Sì sì Appunto Devono avere un anno Io pensavo Potesse essere Magari un gioco nuovo Due sono piccoli Ok Non erano Programmati Per essere esclusive Ok Questi passano Hi-Fi E Pentiment Però gli altri due Allora sono Grandi E come si è Dissi Pentimenti Switch A morte Fu A morte Fu Fu A morte Fu A morte 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 Esce fisico Non troppo Di maniche In nostro Portfolio Cioè lui dice Io do questi giochi Nelle altre piattaforme Ma noi non smetteremo In caso di investirci Cioè di investire In questi franchises Dandogli sì Quello Di cui necessitano Sì Per far capire Che possono essere franchises Quindi potrebbero uscire Dei sequel Solo su Xbox Esatto È un modo per te Lo faccio conoscere Se tu puoi venire Da me Sì sì Che è quello Che hanno fatto Nessuna promessa Oltre Ok 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 Qua è molto Qual è molto politico Ovviamente Non cambia nulla Che più È una soluzione Che реж velocidade Che è stata LUCI Quale Cosa Che 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 Which Le So It Fe Che 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 a couple platforms and what's gonna show up there but our key of play the games you want with the people you want anywhere you want when anybody play when everybody plays we all win these have been part of our strategy for years and will continue to be our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places and how do we grow xbox as part of that xbox is a hardware platform xbox is a publisher of great games and xbox as a platform for the world's best creators and then knowing that how do we think about our first party games and game pass yeah well to build on uh what phil just said one thing i would add when you were talking about growth it's just that uh we've sort of seen this inversion over the last five years where it used to be that the platform was the biggest thing that's right and the games would sort of tuck in the game within the platform today big games like a roblox or a fortnite could actually be bigger than any one platform and uh that really has changed the way that we think about things so in the midst of all that i think we at first party can come back to sort of some core principles first that all of our games will be on the xbox platform second all of our games will go and third we know that game pass will only be available on xbox this is the start of xbox this is the start of xbox this is the start of xbox there are games today that you can play that only can be found on xbox and at the same time we want to bring more of our games to more players so we're going to continue to look at this kind of moving aside though from some of those and thinking more about what does it really mean for the player to me the two key things are cross play and cross save those things allow us to deliver on the promise of xbox which is play with your friends where they are playing the devices you want play the games you want so that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player move across all those parts so not of our games today are necessarily built to take advantage of that there still will be some games that don't we bring more teams into the xbox family there's some catch up to do as we get there but that cross play cross save is like so fundamental to what we're doing and i think is uh something that we as first party get such a good benefit for the platform yeah absolutely i mean that's one of the things like you said all of our games are always in game pass and so i'm excited to announce you know with the coming together that we had with activision blizzard king that activision and blizzard games are coming to game pass inizia diablo 4 okay okay 28 marzo iniziano a mettere i giochi activision cap to the soccer community view that in course with all sorts of traffic yeah and i thought both matt and sarah did a really nice job of talking about yeah i've said ho detto tante cose nessuno si è cagato si all'epoca c'era con alcuni giochi lo compravi su xbox e potevi giocarci anche su pc ormai con il game basta questa cosa non c'è più con il gioco basta ma a tornetta faranno come in benesda integreranno e creeranno il launcher penso giocate vinci dovevesse minore che xbox è una piattaforma per creatori che vogliono riuscire ai più giocatori i nostri investimenti in xcloud i nostri investimenti in franchises come minecraft hanno ribadito che non cambierà questa cosa è un'epoca che è un'epoca è un'epoca è un'epoca ma è un'epoca è un'epoca che non è un'epoca di fare gioco non è un'epoca gioco 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 vorial gio gioco della lettura success and growth in this industry. And my understanding just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices, that is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation, we're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially with Minecraft. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love. and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience experience. Somebody has on Xbox, hardware, your team builds, and that people plan. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players. So I think a lot of people think about 2023 is this incredible year for gaming. And in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches. Some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job elimination. Ah, the diligence event, okay. We have even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves. But in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMB CEO, she'll say that AMD powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024. But if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? or do you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those to the base of players that already play? Our focus on Xbox for the last decade has really been on that matter. How do we make sure Xbox is growing? if you're growing for players, you're growing for our creators. So those people are finding success on our platform, which will grow the business Xbox and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities, how they're incredibly large and you know comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we, we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean they are driven just from the bottom up by the community who can play the games. Which is so great. I think, think about it, for the player community it comes down to where are the friends, where are the people you play with and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they actually play. When we think about, on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that just because we are the platform, we build hardware, we've got a first party games group and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at, just step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware, to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Power World. You know, Power World was able to launch, they were a game preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched in Steam. To the combination of those things, Pocket Pair was able to have this out-sized success, and it was the largest third-party game pass launch ever. And that's all because we give greater options on how they can launch their games, we've got subscription, we've got retail, we've got free-to-play, we've got free-to-play, we've got retail, we've got retail, we've got retail, no. And they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games in those communities. what about the role that hardware plays for us as a business for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that, that the games are going to be great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any street. I've explained, because of all the other investments we made. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before, by nature, thousands of them, by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware. We're going to share this holiday. And we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. And then when we're talking about hardware too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about libraries, I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stands around game preservation? Yeah. One of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage coming to Xbox One. Like it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. Slow reader. And just feeling the energy in the auditorium as we were saying that and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows decades ago and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally it's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games but my saves are still there with cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play is a tenant of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're going to support. and when we look at it, the ability to play that game across a multitude of devices, which I think further is the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but you can work it out for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is that you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like players first features. and I'm talking to you in the future. Cross-play. Cross-save. Cross-save. Cross-procression. Backwards compatibility. Being able to play your games in your library or anywhere you want. Because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you invest. And so you're playing somewhere where you invest. And you know you get to take the games forward with you. And across all of this game we're going to. A giugno ci sarà un Xbox showcase. Ma, diciamo, grazie. And I think it's really important. The Xbox is the place where you know when you're investing in Xbox. You're investing somewhere where you are investing gemme nascoste, in me nascosta può essere sua, che poi loro dicono magari è oltre un anno ma ancora devono passare un anno quando lo annunceranno. In passata sempre è solo disponibile su Xbox e avrà tutti i giochi del first party, l'hardware continuerà ad esserci, hanno proprio distrutto tutto quello che avevano detto che significa che i giochi dei giochi, i giochi dei giochi, i giochi dei giochi, i giochi dei giochi e l'anno prossima, abbiamo avuto più di 10 migliori realizzazioni, abbiamo avowed, l'indiana jones game, e ci sono più in sviluppo, che credo ci siamo potessi sbagliare a noi in giungo cioè per niente hanno fatto comunque un podcast in cui hanno l'unica cosa effettiva che è stata annunciata oltre a debancare tutto quello che è stato detto questo non mi serve è stato dire quattro giochi arriveranno su altre piattaforme basta potevano uscirse semplicemente così potevano fare anche un post e basta e dire guarda tutti i leak fanno schifo tutti i leak non servono a niente invece hanno fatto questa cosa che ci hanno quasi fatto hanno quasi fatto pensare una conferma invece dei leak cioè non c'era addirittura un un podcast per sta cosa sembrava quasi dato ormai per assodato che passassero le esclusive Xbox a Playstation e Nintendo e invece quattro e non ho detto né i giochi né le piattaforme non le dico perché non voglio togliere la bellezza secondo me perché siccome ha detto che deve passare almeno un anno da quando sono usciti se dovessimo vedere quando è uscito hi-fi rush tush perfetto 25 gennaio fa un anno tra ma già fatto un anno una conferenza di Sony sull'SSD sulla PS5 e Pentiment invece novembre 2022 ma sono tutti vecchi sti giochi quella dell'SSD era solo tecnica questa aveva 5 informazioni inutili che potevano essere riassunti in una mail non è mail il termine corretto secondo Benji è l'amico di Olly i giochi sono F-Rush C-O-T-Spentiment Grounded Grounded vabbè non non gli punterei tantissimo ma ok si abbia ovviamente anche per sia anche per dire la cosa di licenziamenti per far capire che comunque non è colpa loro cioè si è colpa loro ma non è che è colpa solo loro cioè il mercato di videogiochi è così tutti stanno licenziando e l'unica cosa è che loro sono tanti essendo tanti ci sono di più che è Fomstars Pitch Stefania Palermo sai che con questi cognomi ma assomigliava alla ragazza del Meet & Greet che abbiamo incontrato è Sir Nintendo PR non penso e di cognome fa Palermo ma questa cosa vive tutta la Sicilia però sono arancini comunque ma di per sé tutti i podcast di Xbox questi sono tutti inutili da vedere cioè questi se li vedete sono tutti noiosi che paura sono tutti noiosi questi perché sono parlati in un modo che ogni parola che dicono hanno uno spessore non tanto per il giocatore ma per tutti che può essere anche quella cosa stupida del tipo noi facendo questa cosa garantiamo la salute di Xbox che sembra un termine stupido cioè a me cosa mi significa della salute di Xbox è una tipologia di termine che per mantenere vivo il brand devono dire per forza di cose ma tutti questi sono così queste qua questo qua dura un'ora tutto quello che sappiamo di Forza Motorsport sono interessanti sei minuti in questo caso di 22 minuti anzi sono interessanti quattro secondi nel totale nel complesso però i quad cioè i software user non l'ho detto domani Nintendo annuncerà il tire allora domani allora c'è questa cosa in effetti quando penso cioè i giochi playstation che arrivano su pc li annuncia sempre playstation non li annuncia qualcun altro però in effetti Death Stranding quando è arrivato sul game pass l'ha annunciato ma l'ha cominciato pc game pass e non 505 anche 505 c'è da dire che allora l'evento così si sapeva che sarebbe stato un evento più forse per azionisti mercato questi qua sono i podcast microsoft sono così ecco ma come quello dell'SSD Max Cerny io capisco comprendo infatti sono partita anche quando su Fred ho messo il post no raga io mi aspetto il gioco raga non c'è giochi non ce ne sono è il tipico evento che sappiamo già come parte c'è da dire che poi mentre tu parli con Siri poi comunque il contenuto però penso fosse riassumibile in non 22 minuti in 6 minuti raga non è vero che le esclusive passano a playstation se non 4 di questi giochi ma lì c'è anche studio della comunicazione il fatto che loro sono presenti che ti mostrano il petto dominante che ti mostrano i capi dicendo per noi questa è una cosa seria la cosa seria è la cosa seria di quello non critico il video perché ripeto io già sapevo cosa mi aspettavo non mi aspettavo nulla è come la Ferragni che fa il post tutti bene post domande e il panettone dietro non aspetta cosa c'era dietro c'è la cosa quella c'è uno studio di comunicazione che agisce agisce male ma agisce ciao Prowen probabilmente avrò saltato qualche saluto nel frattempo nel frattempo Silkson che è stato annunciato 5 anni fa vabbè non parlo comunque allora sono dell'idea che a breve avremo un direct e nel direct potrebbe esserci qualcuno di questi giochi sì 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 nel complesso per me il direct è sempre una cosa sia Wind Waker e Twilight Princess tu ancora ci no io ci spero cioè se annunciano Hi-Fi Rush non Wind Waker su Switch io vendo la Switch quindi nel complesso penso che Nintendo abbia rinviato il direct di febbraio perché fa sempre un direct a febbraio la Nintendo l'abbia rinviato per questo motivo poi vediamo cosa ci sarà questa settimana nel complesso se non è questa settimana sarà la prossima in in toto io ero partito con il fatto che volevo fare un vlog su questa cosa di Microsoft ma in realtà non serve a niente perché la notizia è che escono quattro giochi su altre piattaforme non c'è un futuro del mercato differente ma per quello come loro l'avevano presentata no? cioè è arrivata questa notizia dopo giorni di rumor invece fare un video fai un tweet esatto il vostro soffrezzo rumor incessanti su sta cosa delle esclusive Xbox su Playstation e su altre piattaforme cioè sono arrivati dopo scrivendo proprio vi abbiamo sentito facciamo il podcast siamo qui e vi sentiamo e quindi vi aspettiamo nel podcast settimana prossima per parlare del futuro di Xbox giustamente tu che me la metti su questo piano ma io penso anche gli azionisti comunque dopo i rumor che stanno girando uno pensa scusatemi cazzo allora mi sa che un fondo di verità in questi rumor c'è e poi alla fine non c'era c'era ma c'era però sta di fatto il cinesino che legge il foglio di carta sta di fatto che ora questa manovra farà perdere tantissimo di credibilità e rumor cioè se domani arriva Xbox annunciato la AAA non ci vedrà più nessuno certo cioè ma dopo c'erano volati Gears of War cioè Gears of War su Playstation cioè non è un rumor è astronomico una cosa del genere quindi è quello il punto questa cosa a me sembrava strano che lei cedesse tutte le sue esclusive alle altre piattaforme ma anche il fatto che il Game Pass proprio rumor di oggi Microsoft avrebbe detto ai suoi dipendenti che per loro ogni schermo è una postazione da gioco questa cosa fa pensare è che il Game Pass deve arrivare ovunque e che i giochi devono arrivare ovunque entrambe le cose smentite oggi eh sì anche il fatto no ma immaginate il Game Pass su Nintendo non te lo immagini perché infatti non arriverà non arriva perché hanno riprecisato che il Game Pass resta su Xbox ma del Death Crossing quando gioco vedesida viene valutato cases by cases come doveva essere Starfield cioè i giochi Xbox come quelli Activision Blizzard sono confermati che verranno valutati caso per caso poi dubito anch'io che smollino del The Scrolls perlomeno Day on Day Day and Date cioè al Day One prendi la mia lap e crasha la switch tutto normale vabbè ma ci giochi a questo qua è Famizzo cioè Famizzo o ha droppato la bomba oppure anche Famizzo si è stato Day One hai fai rush pendi e se ut eh no lui lì ci includono aspetta è Famizzo ma sono usciti quindi grazie Jeff meno male che Jeff ha fatto il riassunto scusa Famizzo lo sta lo sta immaginando Famizzo sta facendo fammi prestano così vediamoci che Death Stranding è asciuto su Game Pass facendo l'angela della situa allora vediamo la fonte di Famizzo lui dice i fai rush pendi il 7x è Grounded Famizzo mi vorrei per carità è probabilissimo che siano questi questi sono i quattro titoli lui già è andato per assurdo che sono questi però io vorrei aspetta Xbox Wire vediamo magari l'hanno messo nel podcast scritto podcast scritto internet explode mi scrive Wire fai News Wire sì ma qua sono quattro giochi vecchi cioè forse sono stati ma ha detto che erano giochi vecchi un anno sì sì ma appunto ma è quella la cosa ma a prescindere non ha detto che erano giochi nuovi ha detto che sono giochi che hanno almeno un anno non hanno scritto niente il riassunto ecco come vuole essere assunto sta cosa mandavi una mail ed erano a posto ma che sono fatto che sei quel Famizzo ah sono quelli che ha detto The Verge eh vabbè per carità anche The Verge è una sparata di minchia per carità The Verge è stato quello che era fisso che solamente i Fire Rush era quello sicuro che arrivava e poi non so quanti ne ha detti perché ne sono uscite troppe cose ha detto i giochi ma non le piattaforme scusa tu pensa anche Sea of Thieves può girare su Switch è il più pesante tra questi Sea of Thieves arriva su Switch ma lo gioco c'è il Game Pass fino al 2026 non c'era oggi quando ho scaricato 8000 giochi non c'era Sea of Thieves sul Game Pass ah Sea of Thieves sì ah ho capito Sea of Stars no Sea of Stars c'era scritto Sea of Thieves Sea of Thieves uno non è di Microsoft due c'è sul Game Pass ragazzi ha computo scusate non ci sono con la testa scusate quindi i Fire Rush non c'era effettivamente sì c'è 3-4 oh ma Grounded ah i Fire Rush Pentium che hai fatto 3 minuti Grounded sono Obsidian quindi Obsidian è stata comprata per niente Sea of Thieves è di Rare e quindi torna sul Nintendo dopo tanto tempo i Fire Rush di Badass e quindi rimane lì ma io ci gioco su Xbox non ho bisogno di gioversi su PSC cioè io il Game Pass fino al 2000 anzi lo vediamo in diretta no perché non posso andare sul mio account Microsoft in diretta perché ci sono le credenziali la sicurezza la serie serie 94 quella è la privacy che è l'81 però ok quello che pensi tu no infatti il corso non sai che il cielo è sempre più verde è sempre più blu non mi sento tanto bene ma questo accedi funziona oppure è già Microsoft è andato in crash raga ma ce l'hanno rifatto perché ce l'hanno in realtà ci hanno scammato adesso uscirà un addio a tutti ma accedi non funziona farewell non puoi accedere va Brian mi abbono no mi abbono ecco ora mi fai accedere lì lì abbonati ora scusate se eh no non posso ecco i soldi riscatta dacci i soldi e fai accedere è un fischio maschio senza frischio voglio solo loggarmi va bene invia quello che vuoi al mio telefono anche secondo me il game pass alla fine aumenterà ancora di prezzo assolutamente mi ho già creato la carta di credito vabbè questi 80 centesimi ti rilasciamo sapremo se il direct è stato rinviato per via dell'evento se all'evento nintendo ci sono i giochi microsoft esatto se all'evento nintendo ci sarà uno di questi quattro giochi lo hanno tra virgolette che poi non è rinviato l'hanno fatto in una data diversa per via di questo allora come si vede quando finisce qua porca qua non voglio attivare la cosa ricorrente servizi abbonamenti servizi abbonamenti servizi abbonamenti qua ok bravo ok quando scade quando scade 19 giugno 2025 cioè io per un anno e quattro mesi non ho motivo di comprarli su altre piattaforme questi giochi eh sì esatto e poi io in realtà ogni cinque mesi compro un anno questo numero non decresce mai perché tra l'altro noi abbiamo finito di pagare finalmente l'xbox dopo è per farti la full experience una volta cioè io ho finito abbiamo finito di pagare xbox e noi avevamo il game pass che scadeva con le rate sì noi sarebbe venuto scadere sto mese in teoria questo mese io nel frattempo comunque l'ho rinnovato pian piano accumulando i mesi sì perché c'erano due anni di game pass insieme alla console che è l'all access in non so se lo fa ancora sì sì lo fa fa ancora? GameStop è l'unico acquirente che lo fa in Italia ma chi è ha tirato una mail come bene che abbiamo finito ah? ha tirato una mail come bene che abbiamo finito no no ha detto perché non fai un altro finanziamento ti presenta lo sketch di di Brignano quello della banca no perché vuole i suoi soldi prende i nostri questo mi è arrivato ecco me nella seconda foto ma cos'è sta cosa? ah il compleanno di uno che lavora per Square la verità tu lavora per Square? no ora lavora per Revolut o come per Revolut? la frase definitiva this could be a mail ma è quella la cosa perché ora ora qui dovremo vedere le visual come vedete i podcast hanno diecimila visual poi ce ne a parte questo qua bell'annuncio questo qua l'ho vista anch'io infatti duecentoquarantamila visual ma poi sono quelli diecimila quando va bene ventimila questo perché c'era wowed extended quanto pensi raggiungerà questo di xbox? già siamo a centoventunumila già siamo a centoventunumila non è il più visto ma li ha superati tutti praticamente questo lo supererà domani quindi per far comprendere la potenza che ha avuto tutto sto tutta sta cosa eh raga scritto piccolo ma c'è ok ripeto speravo di avere i nomi dei giochi quantomeno e di piattaforme ripeto allora vediamo cosa succede col direct perché ripeto questo è cronotrigger non mi somigliava però se nel direct abbiamo qualcosa di il direct Nintendo c'è è febbraio è febbraio l'unica cosa c'era un rumor sempre per entrare nel campo rumor che dicevano che ci sarebbe stato ora un direct partner cioè solo di terze parti e mese prossimo un direct vero cioè quello di Nintendo non vero con la nuova Switch che poi sta cosa del rumor della nuova Switch è dal 2021 che se la portano avanti in realtà cioè si parla di prima si parla di Switch Pro ora la Switch Pro non c'è più ora solo Switch nuova ora è Switch nuova Switch Pro è scomparsa nei radar cioè immagino se tutti i leak fossero veri poi come funziona no hanno hanno leakato la Switch Pro non facciamola più facciamo la Switch 2 ma perché che fanno fanno il direct ora e il direct dopo per la Switch vabbè ma sono comunque così è come quando fanno in Indies ma questo non è l'Indies sarà un Nintendo Direct vero e proprio ma posso fare perché quello delle third party ha un nome specifico che non mi pare che è quello che sia a Mini fammi vedere ha un nome specifico no c'è l'Indie l'Indie è la cosa intendo dare Wikipede quello delle terze parti ha un nome specifico l'Indie è la first party Stardew Valley tu le consigli a Destiny si la parola con Stardew Valley dovrei giocarlo però capisci che non posso andare in ossessione anche per Stardew Valley cioè non posso vivere così e invece no eh te l'ho detto ecco perché c'è il Direct il Direct Mini il Direct Special Pokémon che tra l'altro dovrebbe esserci anche questo a breve se non sbaglio ovviamente loro pensano che può essere un Mini un Mini per i giochi e uno grande il per la Switch eh sono d'accordo con l'IA ma secondo me se fanno un Direct è un Direct con la Switch nuova però allora non è cesto mese vi ricordate i giochi per Nintendo Switch base? non usciranno su Nintendo Switch 2 li possiamo giocare? non li potrete giocare su Nintendo Switch 2 allora dipende se non annunciano first party fanno solo un third party solo per e dicono guarda usciranno e il punto è che non avrebbe senso perché non possono mettere esempio che esce 7 remake perché non c'è ancora Switch 2 nel mezzo dovrebbero annunciare solo giochi per Switch attuale ma non avrebbe senso comunque no no quindi come la vedi la vedi non ha senso cioè se davvero magari sai perché non ha letto le piattaforme perché magari Hi-Fi Rush è solo Switch 2 è solo Switch 2 può essere anche può essere quindi iniziamo io la mia Switch non funziona più niente ma non è vero i tasti si staccano ogni secondo e ti è il Joy-Con ah è inizio di Joy-Con quindi la mandiamo subito per 100 euro e mi prendo una nuova è legata a quella Switch la mia Nintendo Switch non si tocca è stata la mia prima Nintendo Switch sì ma avrei una prima Nintendo Switch 2 no sì ma tu non la usi più no quindi devo spendere 400 euro di console perché si è legata io mi affeziono alle cose no io non le voglio vendere ma capito noi abbiamo secondo questa mentalità noi abbiamo due Switch una normale e una OLED e dover prendere una Switch Pro senza dare niente indietro aspettata come quando io ho detto scusa abbiamo due PS4 una la diamo indietro e prendiamo una seconda PS5 che è più utile no la mia PS4 la sua PS4 che quando mettete qualunque gioco qualunque anche se non mettete il disco la ventola comincia a far volare la console c'è stato una io ho finito Death Stranding a casa sua mentre lei dormiva mi ha detto o abbassare il volum mentre giochi avevo le cuffie e fate la battuta ma Death Stranding che non si gioca non la voglio dare via ma la Dremon è un game stop affidabile no non la tratterà mai come me metti che trova un bambino con le mani sudice sporche di patatine al formaggio e la tocca e la patatine al formaggio è un complimento vedremo vedremo ma la mia switch non si tocca vedremo e se mi ruoni i tuoi soldi poi ci pensiamo ci penso se l'annuncio lo tra ah te sette remake ah 15 ore fa non vuoi questo e questo perché c'è questa cosa che ha fatto qualcuno gli anni c'è un'animazione tra con questa questo è arrivato ora io ho avuto mio padre che le ha vendute penso perché secondo me da qualche parte sono le ha vendute tutte le console hai ragione playstation 1 non l'ha venduta per prendere playstation 2 playstation 2 l'ha venduta per prendere la Wii mi pare non mi ricordo hai ragione quindi io che io mi c'affezione alle console vederle andare via perché poi non avevo voce in capitolo ok perché ovviamente ero la bambina cioè mi faceva stare male quindi ho detto finché ovviamente finché me lo posso permettere finché ho la possibilità vada via no non lo cioè non mi sento hai ragione ma abbiamo due switch sì ma sono la switch base e la switch OLED giusto perché non abbiamo anche una switch mini allora che tra l'altro volevamo prendere ma abbiamo pensato all'OLED non è vero abbiamo pensato la light comunque non è vero vabbè mini light è la stessa cosa a me mancano i cross io ormai per questo gioco solo i cheat non ho più voglia di livellare mio fratello che puntualmente mi ha rotto verso praticamente no criminale criminale subito carabinelli per tuo fratello ma infatti io a mio fratello le console mi ha fatto toccare perché cioè no mio fratello ha avuto il nintendo ds ai e l'ha rotto mi pare o non ce l'ha più quindi l'avrà rotto poi ha avuto la psp e l'ha rotta la psp la regalò mio padre a me e a lui lo stesso natale regalò a lui la psp nera e a me la psp bianca la sua si ruppe la mia ancora non funziona in realtà però ce l'ho poi cosa ha avuto ancora mio fratello la ps4 l'ho comprata io non ce l'avete a nintendo switch light se l'è comprata lui cioè se l'è comprata gli hanno regalata e gli avevo detto non ti farei regalare nintendo switch light perché se hai un problema col drift almeno col switch normale puoi cambiare i joycon che sono una spesa minima rispetto a cambiare la console eeeh ma a me piace gialla si è comprato l'intento switch ma c'è anche in italiano è chiuso nel cassetto ora con me quindi non c'era bisogno proprio del video ah no ma ora si è comprato l'intento switch oled oled vero quella di super mario si è comprato c'è anche in italiano tutto non ho più bisogno di fare niente c'è la c'è è stata trovata una console c'è una compagnia che sta facendo un gioco simile di zelda quelli brutti per cdi la compagnia si chiama cdi ah sì sì l'ho sentita sta cosa ma c'è la musica si nelle mie orecchie il primo con gli analogici che il figlio di alcuni amici di miei mi ha distrutto ma io anche tipo prestare presta l'ero ma mi presti questa cosa ragazzi ma io non presto niente a nessuno cioè assolutamente no cioè anche per carità ma anche mio fratello eh ma me lo ple no ma me lo plesti non ce l'ho più l'ho venduto per questo compro digitale fai un attimo sopra ma dove ne commenti nei commenti sì devo leggere il commento di nate se sopra no di ps2 ho venuto da giochi per prendere psp dovresti tornare indietro mi prendere a schiaffi da sopra ok vai giù vai giù grazie sì perché ai tempi comunque c'era sta cosa cioè dai la ps1 te la do dentro mi devi dare mi dai ps2 la pago di nero e in pausa però non c'è quindi io ad oggi non ho più nessuna a parte ecco a parte il gameboy color che mi è rimasto non ho più nessuna console e a me piange il cuore perché per me penso in futuro saranno tutti dei bei ricordi saranno tutte delle belle cioè io ad oggi se andassi indietro mio padre gli direi ma che cosa stai facendo stai vendendo quella console poi mio padre mi manderebbe a cacare e la venderebbe però almeno tenterei ora le abbiamo per il session 1 ce l'abbiamo per il session 2 ce l'abbiamo ma non è la mia ma non è la mia sì ma non è quella con cui sono cresciuta io quella che c'è di là l'ho comprata in un mercatino dell'usato in Lombardia la mia aveva un graffietto particolare no non ce l'ha ti assicuro che c'è un graffietto particolare no la mia aveva un graffietto particolare quando l'accendi non funziona no funzionava la mia sì ma fratelli devo fare quando cambi tipo l'animale che non se ne accorge tipo no hanno cambiato timmi e poi timmi il bambino io comprendo che non è una cosa condivisibile per carità però io no me io sono fatta così che si deve fare ha senso ma ha senso se fossimo miliardari e se nintendo ci porti la classe di console non devi essere miliardario per poterti fare queste cose è ovvio che poi in un momento di difficoltà ci pensa due volte quindi non abbiamo difficoltà no ma domani compriamo due switch 2 e tu non le tocchi tu giochi sulla switch vecchia non funziona il pedale di destra e deve stare passata a canto ma che canzone è partita sì ma poi non è che tu dici ma che cosa ci fa con queste console mi dica ma non ci faceva nulla se non usarle per lo scopo per cui sono create giocati lo sai c'è swag ma nove ore fa ebbè ma ma non l'ho letta nove ore fa oh su egg possono uscire i giochi vecchi perché è uscito un persona di mille anni fa per esempio di recente chi è ah stasi iscritti è un'offerta all'epoca vendevano anche no raga io di cd masterizzati non ho mai avuto niente perché mio padre all'epoca era i giochi li compriamo come da Epic Games una volta una volta sola non me lo dimenticherò mai da Epic Games ancora non c'era Epic pensate Epic Games che è la vecchia che mi sto una volta sola non me lo dimenticherò mai siamo andati al mercato del paese al mercato del paese e c'era la bancarella col banglatino con i videogiochi con i videogiochi stai facendo razzismo quello il banglatino non era razzismo no con il tizio che vendeva le cose quando io mi ero vicino dicevo papà papà guarda c'è questo c'è questo quando mio padre poi vedeva questi cd perché poi questi cd erano messi nella bustina classica con le cose stampate ce l'abbiamo ancora alcuni mio padre assolutamente no mio padre ne comprava pochi 5 euro ma quei pochi dovevano essere presi da Epic Games non c'era verso mio padre videogiocatore mio padre tanti anni fa giocava non dico tanto però giocava è lui grazie a lui che io mi sono appassionata poi però lui è stato il primo a portare in casa la Playstation 1 all'epoca poi purtroppo quegli anni si è si è un po' perso ha avuto un po' di problemi in realtà mio padre quindi non più ma anche mia zia giocava ogni tanto cioè io con mia zia scambiavo i giochi fondamentalmente avevo completamente rimosso i B Games no è B Games nel cuore raga per me B Games era la tasqua il sabato la domenica quando si andava scusami quando si andava dai B Games per me era non lo so la Pasqua la Quaresima il Natale tutto qualsiasi festività c'è invece per stare dai vicini di casa lui faceva lager no non era contemplabile da mio padre non era assolutamente contemplabile cioè no dal pangradino al mercato assolutamente no doveva avere la modifica se non partivano i giochi tra l'altro quindi neanche io mi con la pila 10 ti ho masterizzati con tutti i giochi io ce l'ho ancora ma mi servono come reminder di quello che devo comprare mai masterizzato nulla di Playstation 1 o Playstation 2 ma manco Playstation 3 penso cioè anche perché su un disco non c'era quasi niente c'era la modifica e mettervi giù direttamente ma perché non mi è mai stato permesso in realtà non è che io andavo al centro commerciale che avevo aveva un mini reparto all'interno che aveva 9 giochi contati esposti vabbè è il classico 1 euro di ero ma che adesso forse si è evoluto un po' di più giochi nuovissimi ti va a 12 euro giochi di 10 anni fa a 70 euro no quella è Media World vabbè cosa cambia paura non è una cazzo di remake anche questa sera trasmettere lui inizia a prendere gli originali con alcuni masterizzati guarda PS3 sono originali già nessuno sta più parlando del podcast che ricordi tra l'altro ho letto qua Masterchef ho detto ma perché c'è Masterchef in tendenza perché Microsoft qui c'è Masterchef vabbè ci sono rimastuale che non posso fare un video che farà 10.000 io e PS1 sono masterizzati allora io ne avevo tanti PS1 e comunque non è che tu dici noi è una famiglia normalissima di persone che lavoravano quindi mio padre ne comprava pochi in poche occasioni ma c'erano magari mesi che tornava a casa con un gioco c'erano mesi che tornava a casa con un 3-4 secondo anche delle offerte che c'erano ne avevamo tanti PS1 PS2 forse di meno anche se non me li ricordo granché però anche lì dando dentro la console per raggiungere una cifra comunque che fosse buona mio padre le diede dentro anche un sacco di giochi io avevo tutti l'espiro avevo tutti i Crash avevo tutti Final Fantasy avevo l'8 avevo il 9 forse anche il 7 no ma l'8 e il 9 avevo 8 e il 9 e cos'altro avevo rescue shot non ce l'ho più non ce l'ho avuto più e poi c'avevo un sacco di altra roba adesso mi è rimasto solo che sono riuscita a salvarmi perché li nascosi al tempo non sa te li nascondè e sono rimasti con me fino ad oggi infatti sono qui riuscì a salvare dalla razzia di mio padre lo spirito sora ok e Crash il 3 come cazzo si Warped quindi Crash 3 Spiro dovrei avere il primo e Zuban Dragon Croc 2 che vabbè per forza di cose e mi pare basso ah e forse Rayman 2 The Great Escape se non sbaglio devo vedere ma è così stupido ma è un applicato di immagine ma e poi non è vero che Windows Telva la finestra a sinistra c'è pinchinata a destra cioè non è stato ancora annunciato Windows 12 mamma mia che cosa Master Chief best personaggio di Master Chief pensa che per ricordo Final Fantasy X quella custodia grande di plazzo guardando di copertina stampata su misura eh quelli sono ricordi raga di Playstation 2 io ricordo ricordio ricordo che avevo entrambi mi pare Kingdom Hearts Kingdom Hearts 1 lo comprai io è un ricordo spettacolare però anche quello ho dato poi via Kingdom Hearts 1 criminale mio padre però abbiamo due copie di Final Fantasy questo mi è rimasto solo Final Fantasy X perché riuscì a nascondere anche quello gli altri non riuscì a nasconderli purtroppo hanno subito una mara sorte sono stati rivenduti solo due copie PS2 si ne ho tre ma una l'ho regalato ad una mia amica che non è che l'ho regalato io le dedico Kingdom Hearts 1 per giocarci lei mi prestò il DS io ora mi sono trasferito lei ha il mio Kingdom Hearts 1 e io ho ancora il suo DS ho fatto andare indietro voglio il DS Kingdom Hearts ce l'ho ne ho due copie vabbè ah tu vuoi il DS vabbè DS non ne ho questo sono PS2 su PS3 ne ho una 1.5 poi c'ho 1.5 più 2.5 su PS4 e basta il famoso Pokémon 3 PlayStation che io non conobi come Pokémon 3 PlayStation Rescue Shot cioè noi lo comprammo perché ci piaceva il gioco fondamentalmente poi era un gioco ma te persone conoscete che prendevano un Rescue Shot perché volevano un Rescue Shot da me non c'era Pokémon in copertina da me c'era Rescue Shot cioè magia c'è tutte le persone truffate lei che voleva proprio quel gioco sì cioè io e mio padre dicevano sì prendiamolo che era un gioco poi allucinante perché allucinante voleva comprare Rescue Shot e l'hai spuntato Dino Crisis non mi è uscito di gioco perché avevo anche la guida strategica ma la prestai ma è più rivista a me è rimasta la guida di Kingdom Hearts 2 tutta scritta che mio fratello criminale criminale guarda che lo devo portare in tribunale e anche subito dai carabinieri e mio fratello l'ha tutta scarabocchiata perché quando mamma no dico questa cosa poi me ne vado io quando eravamo a mare parlo di tanti anni fa mio fratello aveva sei anni forse ora mio fratello ne ha esatto 12 no ne ha 21 credo ciao Michael eravamo a mare io mi ricordo che mi ero portata alla guida di Kingdom Hearts 2 tu dici perché ti eri portata alla session 2 no la volevo leggere perché mi piaceva leggere la guida come lettura come libro di lettura mi ero portata alla guida un pomeriggio mi alzo dopo il pisolino pomeriggiano vado fuori mi ricordo eravamo in vacanza in questo bungalo e vedo mio fratello sul tavolino fuori con le matite colorate e dico non ci ha fatto molto caso perché ho detto vabbè ho detto vabbè starà disegnando per i fatti suoi quando vado a cercare la guida non trovo la guida esco chiedo a mia mamma se avesse visto la guida e mio fratello stava disegnando la guida si penso sia questo se era per ps2 era questo la zanzara che doveva succhiare ma mi ricordi quello non mi ricordo come si chiama te l'ho preso ma non mi ricordo il nome quello dei tuoi gemelli no non è quello quello è cool panic credo quello dei pippottini per playstation 1 che correvano su una pista tutta strana micromaniax può essere ma non il mio gioco di una delle stati no ma sto cercando micromaniax non da copertina giapponese di mister moschito è vivo ancora ragazzi è mio fratello che devo fare era lui vedi vedi mister moschito è facile di fare una fantasy 8 avessi dovuto condannarla per caso stavolta giapponese un piede ah aspira questa versione best è per i felicisti ma che senso sto piede però il gioco di riterpan è quello che gli hanno rubato l'isola del destino ma mi stiamo schifando in questo gioco avevo la demo e facevo schifo cioè è uno dei motivi c'è quella demo che mi ha convinto a non comprare il gioco ma chi è questo? è qua che cosa team gettys ah si sai che team gettys ha finito il gioco qual è quello prima della mosca? no questo non c'entra no qual è quello prima della mosca? torna ancora indietro si questo è la mosca si si no ma ripeto di questo qua avevo la demo questo si chiama K in giapponese perché K in giappone significa K perché giustamente quando tu vedi la zanzara sul piede dici eccala K vabbè ragazzi è stato bello vabbè io direi di è stato emozionante ma tu stacchi pure? si si è perché devo fare allora tre cose rapide la prima non ci sarà un video a corredo anche perché corredo non vuole chi devi dire? perché non c'è stato niente di fare cioè il video sembra un riassunto ma non non devo riassumere questa cosa K K K K K K Scriverò due cose su Spray the Knowledge ovviamente ma il video non lo faccio non avrei di chi analizzare scriverà tre cose bastava una mail tre parole basta e questo è uno stanotte slash domani riattivo il 14 quindi domenica avremo una live con Final Fantasy 14 non ci sarà Jade non ci sarà Jade perché l'ultima volta che abbiamo aperto Discord del gioco è scoppiato tutto e siccome non ci vuole di rimettere la piste 5 saremo da soli se Jade vuole partecipare in live in chat va bene però va bene scusa ma se io vengo da Teno ad esempio io sono nella zona di Endwalker tu come c'è che sei a livello a cavallo del mio Chocobo che sei a livello 12 che va per la terra me la farò tutta terra terra si ok mentre settimana prossima ci sarà una live su Final Fantasy 7 base che è quella del compleanno che ormai poverine però devo farla e un'altra sulla demo quando ci sarà anche Junon nel nel piano completo vi faccio sapere date giorni su tutti i social uno Telegram sempre Telegram vinci in generale perché gli altri ti annuncio solo su Day on Date cioè quando sono vado in diretta dico diretta e basta va bene penso non ci sia nient'altro io direi che grazie a Microsoft per avermi dato 20 persone costanti oggi sì no almeno almeno ah ovviamente se c'è un direct lo fanno sempre trovare in cui non posso esserci in diretta ma in caso c'è lei neanche lei potrà esserci in base al pericolo però in caso le informazioni le trovate a prescindere i direct devono cominciare a spostare Nintendo Nintendo fa lì la sera i direct eh sì fai le alle 16 cioè le 16 che ora del cappero è cioè in Giappone sono le 9 del mattino ma che gliene frega capito ma lavoreranno anche in Giappone le 8 ore 9 del mattino fanno lavoro no ok oh scusa ah giustificazione Watashi 1 Nintendo direct des sì va bene non so cosa ho detto io vi ringrazio facciamo un turnfcicolo io vi ringrazio per essere stati presenti niente come al solito se la live se la diretta ok vi è piaciuto iscrizione like condivisione spread the knowledge che è sempre la cosa più importante no alla console war stop alla console war vediamo una cosa stop alla console war tipo Gali ci vediamo ciao raghi buonanotte ciao